E quindi non ho un'altra cosa. Chi è Walter Nudo? Sono io. Non lo so, non so più neanche chi. È quello che voi volete che io sia, insomma. Al fine, quello che avete visto con l'isola, con il cantismo, con il bambiniere, con tante altre cose strane. Io so che Walter Nudo è completo. Tutti i punti, eh? Eh sì, è un personaggio completo. Sento fischiare se regoliamo meglio i microfoni. È un personaggio completo cinema, sport, fiction. Insomma, abbiamo...